Organici dei giudici carenti del 60%, vuoti nel personale amministrativo del 30%, mancanza di sedi idonee per ospitare aule e archivi, in quest'ultimo caso per colpa del disinteresse dell'amministrazione comunale, obbligata per legge a garantire spazi idonei. E il duro atto d'accusa del presidente del Tribunale di Foggia, Domenico De Facendis, che ha voluto commentare i dati sulla produttività degli uffici giudiziari che dirige dal 2012, alla luce del recente report del Ministero della Giustizia che ha posizionato il Tribunale del Capologo Dauno in fondo la graduatoria. A pensare sulla valutazione, le cause pendenti ultratrentennali e l'elevato numero di fascicoli per ogni magistrato che fanno precipitare il Tribunale di Foggia al 139esimo posto, ultimo in Italia. Non mancano però i dati positivi, spiega De Facendis. In un anno e mezzo è stato esaurito l'87% delle cause di lavoro ereditate dagli uffici giudiziari di Lucera che sono stati accorpati a Foggia. Il problema principale continua a essere la lentezza dei procedimenti della sezione lavoro e previdenza, che in quattro anni comunque sono stati più che dimezzati, nonostante l'eredità dei fascicoli di Lucera. Rispetto a quanto previsto nelle piante organiche, mancano 52 giudici togati e onorari. Pensionamenti e blocco del turnover invece penalizzano il personale amministrativo. Ma le parole più dure il Presidente del Tribunale le riserva al Comune di Foggia, che non starebbe facendo nulla per trovare ulteriori sedi per gli uffici giudiziari. La responsabilità è della politica, a Tonato De Facendis, secondo il quale i nuovi spazi devono essere realizzati nell'area dell'attuale Palazzo di Giustizia, dove solo un quinto della superficie disponibile è stata sfruttata.